Ciao, buona domenica a tutti, oggi abbiamo incontrato il Trafiume che storicamente è sempre stata una delle squadre da batter del CSI A7, come era preventivato abbiamo fatto un po' di fatica, però siamo riusciti a spuntarla sul campo facendo vedere il nostro gioco e siamo riusciti a portare a casa ancora i tre punti, abbiamo faticato tanto e loro sono sempre e comunque ogni anno un'ottima squadra, sapete già dove contro chi giocata la prossima? Credo contro la Synergy, se non sbaglio, credo contro la Synergy, grazie a noi, buca lupo per la prossima, grazie mille e forza per Milano!